Ho studiato l'italiano per tre anni all'università, la Scuola Superiore di Economia, la Facoltà di Economia e Politica Mondiale, abbiamo studiato la cultura, l'economia, la politica italiana e senza dubbio la cultura italiana è stata e rimane uno dei simboli principali del patrimonio mondiale. Adesso, oggi, 25 aprile, voglio fare gli auguri al popolo italiano per la Festa della Liberazione, una festa nazionale che si celebra ogni 25 aprile per commemorare la liberazione dell'Italia, la fine dell'occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista. È un giorno fondamentale per la storia d'Italia, simbolo della resistenza. Vorrei anche ricordare che un nostro connazionale, l'abhazo Sultan Pabba, ha combattuto insieme agli italiani contro il nazifascismo e non possiamo dimenticare il fatto che i nostri popoli erano uniti nella lotta contro il nazifascismo. Anche vorrei dire che l'Abkhazia storicamente ha avuto legami commerciali, legami culturali con l'impero romano, l'impero bizantino e dal XIII al XV secolo ha mantenuto un rapporto attivo con Genova. Certo, adesso possiamo rilanciare le nostre relazioni bilaterali e certo è una cosa estremamente importante per noi. Abbiamo un gran potenziale in questo contesto. La nostra bella Repubblica indipendente è situata tra il Mar Nero e le montagne del Caucaso. Certo, abbiamo combattuto a lungo per la nostra indipendenza e adesso siamo uno Stato sovrano. Il sistema economico nazionale si basa sul turismo e certo abbiamo una natura bellissima e un popolo molto ospitale. Vorrei invitare i rappresentanti dell'organizzazione giovanile italiana a visitare l'Abkhazia. I nostri giovani sono molto attivi nelle attività importanti per il nostro paese e il nostro popolo e certo la cooperazione tra le organizzazioni giovanili dei nostri paesi può essere molto interessante. Aspettando la visita dei giovani italiani in Abkhazia vorrei ripetere congratulazioni per la Festa della Liberazione. Grazie mille. 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 Grazie a tutti